Caro Riccardo, perché il pubblico dovrebbe salvarti? Eh beh, per andare avanti e proseguire questa strada, logicamente Certamente, che cosa dovrebbero apprezzare di te? Il genere musicale e... il genere insomma Il genere, quindi se vi piace far casino e lui vi è piaciuto? Tutto fare casino Esatto, come DJ mettete mi piace o condividetelo Se vuoi ripescare questo talento, clicca ora mi piace al post originale del video oppure condividilo